ma l'operatore della gru non e lo so scala per metterlo subito in sicurezza l'attesa di ordine potremmo medicarlo ah l'autoscala qua è capito ok dov'è l'autoscala eccola allora un attimino pausa si scarica sto tizio subito ok allora la lancia allora la lancia la lancia ha preso già tutti allora la lancia già la lancia dove la mando la mando qua ok la lancia ma come già già oh tu vai qua certo veloce 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 dobbiamo spegnere il fuoco abbiamo dei feriti oh i feriti eccoli là ok pausa allora tu vai dentro tu vai dentro non lo cacchio all'altro vai dentro consideralo fatto forza forza e dai giro largo si andate qua subito l'ambulanza cosa c'è eh andate qua capito cosa c'è tu vai qua tu metti qua ok ne manca uno di ferito dove sta ah eccolo qua cavolo aspetta pausa 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 tu si vai qua subito ok vediamo un po' la situazione ah vai spegne il fuoco che sta a fare ah ma la giallo sta a fare allora vediamo un po' puoi arrivare qua vai vai qua vai qua un altro vai qua tu vai qua tu scendi presente ok ok la situazione ora è più buona certo in attesa di ordini soccorri sto tipo perché non ci vai cosa c'è capito ci siamo quasi raga ci siamo quasi in attesa di ordini presente in attesa di ordini presente a disposizione scendi consiglio cosa c'è vai qua vai qua vai qua ci penso io vai qua ok si signore la lancia lasciamo la fuori che non si sa mai e allora com'è qua la situazione con l'incendio perché non ci vanno i pompieri che cavolo stanno a fare andate a spegnere questo che cavolo stanno a fare andate a spegnere questo non riesce a trovare un idrante libero nelle vicinanze dell'obiettivo e che cacchio aaaah dove sta allora voi due in attesa di ordini entrate dentro presente dove è l'altro tu vai dentro vai qua in attesa di ordini capito stanno curando cavolo oh stanno proprio messi male vai un attimo a curare pure questo va prima che me crepa no tu ok no prima che prima che qualcuno qua mi crepa perché chiaramente l'altro perde vita intanto quindi devo assolutamente assicurarmi che nessuno crepa ok qui com'è il tizio? qui a posto? vai dentro l'auto ok qua il fuoco sta spegnendo dunque volevo mandare questo non ce la faccio a mandarlo qua? cos'è? perché non si sposta? ok pausa 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 devo togliere chi è che c'ha ancora l'idrante? eccolo qua vattene vai dove devi andare basta che te togli ok questi mi stanno tenendo freddi quello che c'è da tenere freddo insomma vi voglio portare un attimino questo qua in modo che magari riesco ad avvicinarmi si ok dove vai? si fammi il giro largo mi raccomando vabbè no ma forse ce la famo forse ce la famo ok allora manca uno che mi sta per crepare dove sta il tizio dov'è? si vai qua vai qua vai qua capito subito dov'è l'altro tizio il dottore? cura questo cura questo si signore piglia questo si signore e porca miseria ma sto a impazzire però guardate ma una mossa a disposizione ok tu piglia questo si presente ma dove cacchio andate? si si subito mamma mia tre ore o tre ore si ok cosa c'è? ma perché sto scemo non si toglie con sta barella a disposizione consideralo fatto in attesa di ordini allora come la situazione? pausa vediamo un po' è tutto a posto non serve più ok io chiaramente ragazzi lascio tutti qua perché metti che succeda qualcosa all'improvviso piuttosto probabile ok quindi ce ne siamo? a disposizione ce ne vogliamo andare? si certo si ok riusciamo ad andarcene per favore oh mi stanno a fare se capro ora ah tre ore finalmente si ok bene era ora sicuramente con tutto il tempo perso succedemo qualche cosa dove cavolo va sto tizio? qua davanti consideralo fatto in attesa di ordini intelligenza artificiale che gli arriva fino al dove dico io eh meno male che a meno quello se ne va in attesa di ordini vai qua oh finalmente l'ambulanza sta portando il ferito in ospedale alla base si presente si ok allora ne abbiamo uno dentro rimandiamolo qui non si sa mai ci penso io lo sta pigliando si si ok ci penso io perfetto ok ci penso oh meno male allora lì abbiamo finito ragazzi credo che manca dovrebbe mancare il giusto sto tizio qua l'autoscala la mandiamo a casa l'ambulanza sta portando il ferito in ospedale alla base ok basta a disposizione cosa c'è? basta spregare acqua allora mi serve un'ambulanza mettiamo il tempo veloce ok 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 ci siamo quasi ragazzi abbiamo quasi completato questo lavoro devo dire che è stato abbastanza più semplice in confronto all'altro ecco che arriva l'ambulanza eccola scendi si signore va e piglia sto tizio capito meno male che l'hai capito miracolo e dai ci siamo? ce la famo? capito ah e meno male va ok ragazzi se tutto va bene abbiamo completato questa missione mi pare anche che sia non sia mi pare che non sia stata poi così difficile lascio tutto la ragazzi non mando nessuno a casa perché può essere che succede qualcosa all'ultimo quindi sono tutti qua pronti eventualmente se succede qualche catastrofe oh oh hai completato la missione in modo impeccabile a vero? se metà la medaglia ecco stava a dire se metà la medaglia d'argento gli sparo in testa va uh meno male ragazzi ce l'abbiamo fatta va buon ragazzi quindi spero che questo gameplay vi sia piaciuto continuiamo ovviamente cos'è vado a dire se erano una missione di acquistare nuovi servizi di emergenza ok come al solito va bene quindi ragazzi spero che questo gameplay vi sia piaciuto come sempre ragazzi commentate iscrivetevi lasciate un bel pollicione in su ci vediamo presto in un prossimo video raga ciao alla prossima